Cari amiche e cari amici, prima di leggervi un articolo tratto dal Corriere della Sera di un paio di giorni fa, firmato da redazioni esteri, voglio dirvi due parole. Ma vi ricordate Bergoglio l'aggressività, la cafoneria che ha dimostrato oltretutto contro una donna, una cinese che chissà come aveva fatto a raggiungere le prime file per potergli allungare la mano? Vi ricordate come l'ha schiaffeggiata, la faccia cattiva che ha fatto dopo? Chi fosse quella cinese non si sa e non si sa per mai. Quel che voleva dirgli è prevedibile. Sua santità, dia una mano ai cattolici cinesi. E lui che ha fatto l'ha schiaffeggiata in quel modo brutale, una donna davanti a tutti, fregandosene anche delle telecamere. Di questo è capace il compagno Bergoglio. E ha voluto dirvi questo, prima di leggere questo articolo, che si intitola Pompeo sfida il Vaticano, virgolettato, cancelli l'accordo con la Cina o perderà l'autorità morale? Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha attaccato l'intesa tra Pechino e la Santa Sede che dovrebbe essere rinnovata questo mese per altri due anni. Cari amici e cari amici, questa intesa lo sapete che consiste in qualcosa di abominevole, è a di là di ciò che appare. Il Papa consente al governo cinese di nominare i Vescovi. L'ultima parola ce la deve avere il Papa però, ma questo è pura forma perché non a caso lo chiamo il compagno Bergoglio perché sottostà la volontà dei cinesi. Quindi i Vescovi poi che nominano il governo cinese, un governo comunista tra le peggiori dittature che ci siano mai stati, che ammazzano i dissidenti così come fossero moscerini. Che fa il governo comunista? Mette i suoi funzionari, li nomina Vescovi e dentro le Chiese dei Cattolici ci sono dei Vescovi che non sono altro che funzionari del Partito Comunista. Questa è riuscita a fare Bergoglio. Ma adesso leggiamo l'articolo e perché Mike Pompeo si è un po' stranito. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha attaccato l'accordo tra Cina e Vaticano alla vigilia dell'incontro con Papa Francesco previsto per il 29 e 30 settembre. Pompeo scrive sul sito della rivista First Thing, influente mensile religioso conservatore. Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito Comunista Cinese che ha aumentato gli abusi del partito nei confronti dei credenti. Se dovesse rinnovare l'accordo il Vaticano metterebbe a rischio la propria autorità morale. Incredibile, eh? Rileggo. Se dovesse rinnovare l'accordo il Vaticano metterebbe a rischio la propria autorità morale. Continuo. I cattolici sono tra le voci che con più vigore chiedono il rispetto dei diritti umani a Hong Kong, a cominciare da Martin Li e Jimmy Lai, ma Pechino li ha arrestati, spiati, molestati per aver commesso il crimine di promuovere la libertà. Il Vaticano dovrebbe stare dalla parte dei cattolici e del popolo di Hong Kong e non dalla parte dei comunisti del governo. Esiste un programma di sterilizzazione che comprende anche aborti forzati nei confronti dei musulmani dello Xinjiang, portato avanti dal Partito Comunista Cinese. Inoltre, gli abusi nei confronti dei preti cattolici, dei laici e l'assalto alle chiese domestiche protestanti sono continui e non si contano più. Chiuse le virgolette. Tutto ciò è parte di una campagna di sinizzazione per subordinare Dio al Partito, promuovendo al tempo stesso il presidente cinese Xi Jinping come una divinità ultraterreno di Stato. Pochi giorni fa il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, aveva parlato di buone possibilità di rinnovo dell'accordo con il via libera di Papa Francesco. È chiaro, è tutta in combuta. Questi compagni cardinal Parolin, Papa Francesco, ma che schifo, è il compagno Francesco, e qui lo dimostra, con il suo ateismo, il suo materialismo. Vado avanti. I confini tra chiesa ufficiale legata al Partito Comunista cinese e chiesa clandestina sono sfumati da anni nella realtà quotidiana di milioni di cattolici, in quanto in molte province la situazione è peggiorata, anche a causa di norme sempre più rigide del governo centrale. I regolamenti sull'attività religiosa, ad esempio, vietano ai minorenni di andare a messa e partecipare all'attività parrocchiale. Spesso la polizia si trova sulla porta delle chiese, le famiglie non possono entrare con i bambini. La difficoltà delle trattative era trovare un punto di equilibrio nella nomina dei vescovi e quindi nella vita della chiesa cinese. Da una parte la Cina riconosce il Papa come capo della chiesa cattolica con relativo potere di nominare i vescovi, dall'altra Pechino mantiene una facoltà di controllo sui nomi. Quindi nei fatti, per com'è la situazione, i vescovi cinesi sono dei burocrati, dei funzionari del governo comunista. È vietato a bambini entrare in chiesa, ci sono persecuzioni nei confronti di cattolici e il cardinal Parolin a nome di Bergoglio dice vogliamo rinnovare, vogliamo rinnovare l'accordo di altri due anni. Beh, Mike Pompeo, pensaci tu! Non è possibile andare avanti con questa schifezza. E ancora molti cattolici stanno qui a scrivere ma perché non ti mostri tutta la faccia? Ma perché non ci metti la faccia? Perché ti mostri solo a metà? Stupidi, stupidi. Pensate a quei poveracci perseguitati, uccisi, a questi cattolici che in ogni parte del mondo, ogni giorno vengono uccisi, e mica solo in Cina. E Bergoglio non dice una parola. Figuriamoci con la sua intenzione di prolungare questi accordi diabolici e persecutori se dirà mai una parola nei confronti dei cristiani perseguitati cinesi. Compagno Bergoglio, continua a picchiare le cinesi, soprattutto se ti allungano la mano. Bell'esempio. Cari amici e cari amici, se ritenete voi il decimo tono, mi dovete supportare. Lasciate un'offerta. Chi non può lasciare un'offerta, lo capisco perché c'è la crisi, dica una preghiera per me, almeno una, va bene lo stesso. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.